Quando Clark Stevens arrivò all'Istituto per Malattie Mentali Cunningham, credeva di sapere qualcosa riguardo alla pazzia. Signor Stevens, io spero che lei capisca bene che cosa deve fare qui da noi. Come, prego? Non è in una classe a leggere come la vita in un istituto per malattie mentali. C'è arrivato. Mi faccia uscire. Calma. Io non dovrei essere qui. Non era preparato a ciò che trovò. Chi c'è da? Ehi, sei nuovo? Salve. Sarò la tua guida turistica oggi. Quella è Crystal. È sempre stata nifomane. Qui è dove emettono le persone di cui vogliono dimenticarsi. Non possono uscire, vero? È ciò che mi ripetono. Accadono brutte cose laggiù. Non smetterà di farmi paura. Di chi parli? Del fantasma. Quale fantasma? Quello che corre per la casa di notte. Come ci si sente ad essere convinti che ci sia qualcosa quando la logica ti dice che non c'è? Ora sai cos'è la pazzia? Parlami del fantasma del bambino. Si mostra ovunque ora. Sto cominciando a credere che questo posto sia veramente infestato. Ben! C'è la 44 schizofrenico morto nel 1989. E allora? Gli ho parlato stamattina. Nessuno è al sicuro qui! Aiuto! Aiuto! Benvenuto nella casa dei pazzi. Benvenuto nella casa dei pazzi. Non so che 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 non so